Anche noi cerchiamo segni e certezze per camminare in sicurezza, ma non sappiamo più interpretare i segni. Non sappiamo più vivere i momenti di solitudine con noi stessi per saperci ascoltare. Non abbiamo più i dubbi e non sappiamo più vivere in uno stato di continua ricerca del volto di Dio e della sua misericordia. Se abbiamo paura del silenzio che ci parla di Dio e preferiamo il frastuono della strada, non sapremo mai riconoscere i segni con cui Dio ci parla. Che spazio riservi alla ricerca del volto di Dio? Qual è l'ultimo segno visibile dell'amore di Dio che hai colto nella tua vita?